ciao ragazzi sono marco coliziotta cavallo lei è cadves proprio con lei volevo parlarvi delle scarpe perché si come proprio come voi anche i cavalli portano le scarpe vedete questo qua è lo zoccolo del cavallo e non è altro che una grande unghia e sopra quest'unghia viene fissato il ferro con dei chiodi ma questi chiodi vanno ad infilarsi all'interno della stessa unghia quindi loro non sentono niente una volta all'incirca al mese il maniscalco che non è altro che il calzolaio dei cavalli toglie il ferro vecchio che ormai è consumato taglia l'unghia in eccesso quindi calore non sente niente e dentro l'unghia fissa questi ferri con dei chiodi questa è la mascalcia diciamo il luogo del maniscalco il calzolaio dei cavalli come dicevo prima e questi sono i ferri nuovi che all'incirca ogni mese vengono cambiati e vengono poi dal maniscalco lavorati sull'incutine battuti con il martello per aggiustare la misura sul piede del cavallo poi ovviamente per battere questi sono di ferro e sono duri viene accesa la forgia e vengono comunque scaldati diventano roventi ovviamente si prendono con le pinze con i guanti si raffreddano nell'acqua e si portano fuori dove c'è il cavallo in attesa per cambiargli le scarpe il cavallo è pronto per la pattuglia se ci vieni da trovare ci facciamo una foto insieme con grande piacere ciao 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 ciao